26.000 km di autostrada, no, non parliamo di una nuova opera di viabilità, ma di una nuova infrastruttura che sarà percorsa dalla fibra. Arriva infatti a Sassari la banda ultralarga grazie ad un accordo siglato dal comune di Sassari e da Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti. Fino ad un giro al secondo si è in download che è upload. Si tratta della più avanzata tecnologia. Questa mattina in conferenza stampa è stato presentato il progetto dal sindaco Nicola Sanna, l'assessore alla viabilità Antonio Piu, l'assessore per i servizi informativi Amalia Kerch e Roberto Tognaccini, responsabile network di Open Fiber. Costruiremo una rete completamente nuova che sarà estremamente più smart, avrà una capacità di download e upload di oltre un giga e quindi consentirà alla città di Sassari di fare un notevole passo avanti per tutto quello che è la interconnessione a banda ultralarga. Un investimento di 15 milioni per portare alla banda ultralarga a casa di ogni cittadino e di ogni azienda. Siamo soddisfatti, ha dichiarato il primo cittadino, perché c'è un programma nazionale di investimenti in cui entra anche Sassari insieme ad altre città media e metropolitane. Una rete che verrà portata ad ogni numero civico che interesserà 44 mila unità immobiliari, i cantieri poco invasivi. Si parla infatti di interventi sul manto stradale di un'ampiezza di 8 cm per 40 di profondità. I lavori verranno programmati in sinergia con l'assessorato alla viabilità in modo da non intralciare o sovrapporre i lavori di ripristino del manto stradale. Anche grazie all'investimento sulla fibra, sottolinea più, con il coordinamento dei lavori riusciremo ad avviare maggiori interventi di ripristino al manto stradale, oltre a quelli previsti dai mutui, proprio grazie ad un lavoro di sinergia, coniugando e non sovrapponendo i lavori stradali di vitumatura. La nuova infrastruttura tecnologica consenterà un sistema di video sorveglianza più performante, un impianto semaforico connesso, per esempio con le esigenze di traffico nelle diverse fasce di flusso, inoltre metterà in connessione di presenti pubblici e la rete ospedaliera.